Musica Occupentiamo il taglio di un salee professionale Pettine sottili Pettine sottili Musica E' il furgone della legalità Per il secondo anno consecutivo I ragazzi dell'Associazione Libera di Ferrara E la Proloco di Voghiera Hanno restaurato un furgoncino Da destinare ad una cooperativa Che in Sicilia gestisce un'azienda Confiscata alla mafia Un aiuto concreto e simbolico Frutto del lavoro di molti volontari Musica Tutti sul furgone Partiamo, giriamo l'Italia Ci fermiamo a Senigallia Al Catterraduno di Radio 2 E poi proseguiamo fino a Trapani Dove consegniamo le chiavi del nostro furgoncino Ai volontari della cooperativa Ritatre di Trapani Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.